E carissimi amici ed amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale. Come dicevo per altri video, oggi è una bella giornata, una bella giornata di sole e veramente per chi può almeno a queste latitudini è bene fare una bella passeggiata. Però ho trovato il modo di fermarmi per condividere con voi alcune riflessioni sui casi di cronaca perché qualche novità ci sta e anche la domenica è bello fare delle considerazioni insieme. E quindi anche per il giallo di Pierina Paganelli sapete che lì è una polveriera a cielo aperto, diciamo così. E quindi fra le notizie che possiamo dare, perlomeno come riposta in alcuni quotidiani come Virgilia Notizia ma tanti altri quotidiani che Manuela avrebbe deciso di abbandonare il condominio di Via del Ciclamino insieme con la figlia. Ora non so se ve sarà confermata questa notizia che si legge sui quotidiani però se fosse vero avrebbe del clamoroso perché un suo allontanamento è vero che diciamo per tutta questa tensione, per queste scritte, queste cose capisco pure che in quel contesto non è che si sia bene però è anche vero che ciò composta la separazione da Giuliano. È un dato di fatto, nel momento in cui lei lascia la casa insieme con la figlia è ovvio che di fatto Giuliano, non credo proprio che Giuliano lasci anche lui casa sua quindi abbiamo una rottura credo davvero completa e si sfalda proprio fisicamente quel pianerottolo e Giuliano rimarrà da solo? Veramente è qualcosa di molto triste anche perché è una persona credo ancora un po' convalescente dopo tutto quello che ha passato. Che cosa vi devo dire? Dove va Manuela? Andrà forse da fratello Loris? Non credo. Non credo che vada da fratello Loris perché se lei vuole allontanarsi in una zona dove magari non vuole nemmeno far sapere per avere più tranquillità per lei stessa e per la figlia legittimamente non credo che vada a casa del fratello per convogliare su un'altra casa insomma le attenzioni dei giornalisti è comprensibile però è la presa d'atto voglio dire veramente di una lacerazione perché lì soprattutto è sotto costante attacco dell'ex amica Valeria che insomma in queste lunghe interviste ha fatto capire come più volte lei abbia cercato un faccia a faccia con Manuela che è stato sempre negato Manuela l'ha risposto soltanto con messaggi però è indubbio che quando stai sullo stesso piano erottolo può capitare di aprire la porta e di trovarsi l'altra persona davanti o che per combinazione entra o esce oppure ci si affaccia al balcone e i balconi stanno proprio vicini è certamente qualcosa capisco che qualcosa di imbarazzante quindi leggo sul resto del Carlino si rompe l'alleanza fra Manuela e l'amante e in che senso? che certamente pure questo fatto del cambio dell'avvocato è l'avvocato, il nuovo avvocato Fabri che tutela ora gli interessi di Valeria e di Luis quindi c'è questa polveriera a Cile Aperto però questo odio adesso quasi questo risentimento di Valeria verso Manuela non arriva al punto però da farle fare il passo ulteriore di dire io sospetto di lei o accuso lei secondo me non lo so se Valeria è convinta davvero delle stranità di Manuela perché se fosse per lei potrebbe anche per dispetto diciamo dare dei sospetti su di lei ma non lo fa, non lo fa anche perché forse si rende conto che anche buttare dei sospetti così molto generici comporterebbe automaticamente farlo anche nei confronti di Luis perché comunque questa relazione c'è stata e se nel caso in cui Manuela avesse delle responsabilità è ovvio che non sarebbe responsabilità esclusive cioè sarebbe responsabilità condivise e forse proprio con Luis quindi è ovvio che nessuno di questi personaggi può avere colpe da solo nessuno da solo potrebbe fare qualcosa senza una sosta di complicità qualora fossero stati loro quindi la situazione veramente è degenerata perché Manuela allontanandosi di fatto si allontana da Giuliano Valeria non si allontana da Luis perché Luis per qualche giorno era stato via poi è rientrato voi immaginate che il massimo che che Valeria non vorrebbe non vorrebbe mai è che una Manuela che si allontana da Giuliano e lei che si allontana da Luis potrebbe in teoria fargli avvicinare Manuela con Luis se entrambe le coppie voglio dire si allontanano questa Valeria credo che non lo vorrebbe mai perché sarebbe come dare una soddisfazione poi all'ex amica oggi nemica quindi queste alchimie sono come la il magma diciamo di di un vulcano in piena eruzione in tutto ciò sullo sfondo ci sta in maniera settica diciamo che cosa la procura la procura di Rimini che guarda a queste alchimie e certamente certamente non so se se gioca come il gatto col topo ma sicuramente in questo caso qui ci sono tante tante ma tante tanti elementi che la procura ha ed è assolutamente non vero il fatto che la procura brancoli nel buio è assolutamente non vero che l'attenzione è spostata ad altro al di fuori di quel condominio penso soltanto che alcuni tastelli ancora devono andare al loro posto e quindi adesso la procura secondo me sta semplicemente osservando perché mai come in questo periodo la situazione è in grande subbuglio in grande evoluzione voi pensate che non è passato tanto tempo sono passati diciamo due mesi da quelle riunioni così in condominio seduti a tavolino tutti questi quattro personaggi così d'amore e d'accordo dopo dopo due tre mesi questa situazione esplosa fra di loro e al loro interno non c'è più nessuno che abbia rapporti con nessuno nessuno più che vada d'accordo con nessuno e qui che la procura secondo me conta per rompere forse diciamo questo questo patto qualora loro avesse delle colpe per rompere questo patto diciamo di silenzio qualora dico qualora avesse delle delle colpe però il fatto è che almeno che si sappia non vi sono altre piste che conducono all'esterno quindi per il momento è tutto quindi seguitemi condividete il video e diciamo sempre settimana prossima però vedete le novità ci sono non è che parliamo sempre della stessa cosa ci sono ogni giorno sempre dei piccoli passi avanti grazie amici buona domenica e un abbraccio a tutti quanti voi